Buon lunedì, bentornati sul mio canale o se siete nuovi benvenuti. Il mio nome è Lisa e come ogni lunedì mi siedo qua con voi e vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata. Questo lunedì per bilanciare un po' la storia di venerdì della mia rubrica vi racconto una storia per carità sempre terrificante, orribile, che non sarebbe dovuta succedere ma che almeno ha un lieto fine. Oggi parliamo di una donna incredibile, una donna di nome J.C. Lee Dugard e del suo rapimento. Sto leggendo il suo libro in questo periodo, anzi lo sto ascoltando, è un audiolibro ed è letto proprio da lei. La sua voce è il che trovo renda la cosa ancora più personale e coinvolgente. Infatti mi sento quasi di conoscerla ormai dopo tutte queste ricerche che ho fatto e in più la sua voce che mi racconta la sua storia. Non vi prometto che non mi scappi qualche lacrima mentre vi racconto questa storia perché è davvero una storia emozionante e spero vi coinvolga tanto quanto ha coinvolto me. Questa è J.C., una ragazzina come vedete bellissima e aveva soli 11 anni quando è stata presa il 10 giugno del 1991 in California. La sua famiglia era composta dal suo patrigno Carl, sua madre Terry e la sua sorellina minore Shana. J.C. aveva un rapporto meraviglioso con sua madre, erano davvero tanto unite. Con il suo patrigno non molto, nel senso che la loro relazione era un po' complicata, lei si sentiva molto criticata dal suo patrigno. Non ci sono storie di abusi o niente del genere, però insomma non era una relazione molto bella tra loro, ma con sua madre andava davvero d'accordo. E la famiglia di J.C. si era trasferita da soli nove mesi in questa nuova cittadina di nome South Lake Tahoe, sempre in California, perché prima di vivere qui vivevano a Orange County. E si sono trasferiti in questa nuova cittadina proprio perché per loro Orange County era troppo pericolosa e quindi volevano trasferirsi in una cittadina più piccola, un po' più tranquilla e soprattutto più sicura. Era un giorno come un altro, la madre di J.C. era a lavoro e J.C. si stava preparando per andare a scuola. Aveva soli undici anni e la sua più grande preoccupazione in quel periodo era una gita imminente che doveva fare con la scuola ad un acquapark. E J.C. appunto stava diventando una giovane donna, quindi il suo corpo stava cambiando e le erano cresciuti i peli sotto le ascelle, sulle gambe. E quindi lei si vergognava molto di questa cosa e appunto la sua preoccupazione più grande in quel periodo era il voler chiedere a sua mamma il permesso di potersi irradere. Quindi questo per farvi capire che era una ragazzina assolutamente spensierata, che aveva problemi normali per quell'età. Quel giorno J.C. esce di casa per andare a scuola, sta camminando fino alla fermata dell'autobus. Era una bellissima giornata di sole, appunto era il 10 giugno in California, quindi piena estate. E mentre J.C. cammina una macchina si ferma a fianco a lei e le chiede indicazioni, delle indicazioni stradali. Ma prima che J.C. possa dire qualcosa, improvvisamente cade per terra e si sente come paralizzata. Questo perché l'uomo nella macchina l'aveva colpita con un taser. J.C. è sdraiata a terra, completamente confusa, sente queste scosse lungo il corpo ma non capisce che cosa sia. E nota che si è bagnata ai pantaloni, che ha perso il controllo della vescica. E subito dopo l'uomo all'interno della macchina la prende di peso e la trascina in macchina e parte a tutta velocità. Pare che il patrigno di J.C. si trovasse a poca distanza da lì e pare che veda tutta la scena. Quindi sale sulla sua bicicletta e prova a seguire questa macchina ma chiaramente la macchina è partita a tutta velocità quindi il patrigno di J.C. non ha avuto il tempo né di raggiungerla né purtroppo di leggere la targa. L'uomo che ha preso J.C. si chiama Philip Garrido e non era da solo, era con sua moglie Nancy Garrido. Che era proprio quella che aveva scelto J.C. e aveva aiutato il marito a prenderla come regalo. J.C. si trova all'interno di questa macchina, l'hanno coperta con una coperta molto calda e J.C. perde i sensi a un certo punto. E quando si risveglia si ritrova a casa di Philip e Nancy e inizia subito a dire a Philip che i suoi genitori non hanno molti soldi ma che se gli avesse fatto sapere dove si trovava sarebbero stati disposti a pagare un riscatto. J.C. era ovviamente terrorizzata e la strada verso la sua salvezza sarebbe stata ancora davvero davvero lunga. Sua madre chiaramente era devastata, come già detto lei e J.C. erano davvero molto vicine quindi sua madre inizia subito insieme alla polizia a cercare sua figlia. Nancy e Philip avevano portato J.C. appunto a casa loro che si trovava più o meno tre ore da casa di J.C. in un posto che si chiamava Costa County e da lì inizierà il calvario di J.C. Il primo giorno Philip la porta in bagno, le fa togliere tutti i vestiti, le mette delle manette e la costringe a entrare in doccia con lui e la violenta. E questo è l'inizio di una specie di routine perché Philip finirà per fare questa cosa quasi tutti i giorni. Subito dopo Philip prende J.C. e la porta nel suo cortile. Praticamente nel cortile di casa di Philip e Nancy avevano tutti questi tendoni, questi capanni e baracche, mezze di roccate e portano J.C. in uno di questi capanni ma era una stanza veramente molto molto piccola. C'erano delle coperte buttate a terra e nient'altro, non c'era neanche un bagno né un secchio per fare i suoi bisogni. Ovviamente questa stanza, questo capanno era fatto di materiale isolante così che anche se J.C. avesse urlato nessuno l'avrebbe sentita. E inoltre Philip le aveva anche detto che se solo avesse cercato di scappare ci sarebbe stato un cane molto cattivo ad aspettarla. E le ha detto anche che avendo scelto proprio lei e facendo a lei queste cose, in questo modo lei stava salvando la vita ad altre bambine. Perché le spiega Philip che lui aveva un problema e che lei lo stava aiutando a risolvere questo suo problema e appunto nello stesso tempo stava salvando la vita ad altre bambine. E che se quindi lei fosse scappata lui avrebbe preso altre bambine e gli avrebbe fatto queste cose. E l'ha tenuta per molto tempo in questa stanza e andava una volta al giorno a portarle qualcosa da mangiare e un secchio in cui poteva fare i suoi bisogni ma solo quando lui arrivava. Dopo un po' le ha lasciato questo secchio lì in modo che potesse andare in bagno quando doveva e le ha portato anche un piccolo televisore che si sintonizzava soltanto su alcuni canali in modo che lei non potesse mai guardare il telegiornale e non potesse mai vedere le notizie sulla sua scomparsa. Nel frattempo Terry, la mamma di J.C., stava facendo davvero tutto il possibile per ritrovare sua figlia. Questa donna era davvero determinata, tantissimi suoi amici hanno addirittura lasciato il lavoro per poterla aiutare. Tantissimi volontari si sono uniti alle ricerche, hanno messo volantini con il viso di J.C. ovunque, ovunque nel paese. E dato che J.C. era scomparsa indossando un outfit completamente rosa e che il rosa era il suo colore preferito hanno messo in tutta la città dei fiocchetti rosa in modo che nessuno potesse dimenticarsi di lei. Terry ha anche fondato un gruppo chiamato J.C.'s Hope, che vuol dire la speranza di J.C., con cui coordinava tutte le ricerche e anche tutto il lavoro dei volontari. Hanno addirittura fatto scrivere una canzone per J.C. che hanno fatto passare a tutte le radio. Nel frattempo J.C., dopo circa un mese e mezzo di reclusione in questa amica, micro stanza viene finalmente spostata da Philip in una stanza un po' più grande. E J.C. ovviamente era perennemente terrorizzata, confusa, non sapeva dov'era, non sapeva che cosa stava succedendo. E racconta quindi che si rifugiava nei suoi pensieri e pensare a sua madre la faceva stare molto meglio. E racconta che lei e sua madre avevano questa cosa con la luna, avevano l'abitudine di guardare spesso la luna e di discutere su quale luna fosse più bella, se la luna crescente o la luna piena. E quindi ogni tanto guardava fuori dalla finestra e guardava la luna. E racconta che guardando la luna si sentiva più connessa a sua madre, perché sapeva che sua madre stava guardando la stessa luna. E la cosa molto bella che mi fa venire le lacrime è che anche sua madre stava facendo la stessa cosa e stava pensando le stesse identiche cose. Ed è incredibile come il loro legame fosse così forte che senza saperlo si stavano facendo forza a vicenda. E invece Philip era una persona orribile e non era neanche completamente centrato. Credeva in tutta una sorta di religioni strane, credeva in angeli molto strani, credeva di poter sentire delle voci provenire dai muri e anche sua moglie ovviamente non ci stava molto dentro che sosteneva questo comportamento del marito e lo supportava in tutto quello che faceva. E insieme ogni tanto facevano questa cosa in cui prendevano tantissime sostanze mischiandole tutte insieme e poi in questo stato di ebrezza andavano da JC e la violentavano. E subito dopo Philip iniziava sempre a piangere, a scusarsi con lei dicendo che era un uomo orribile, gli dispiaceva di farle questo e diceva che era stato Dio a dirgli di farlo. E di nuovo, perché tutti danno la colpa a Dio? Ha detto Dio di farlo, io c'entro niente, è stato Dio. Anche nel video di venerdì, no? Smettetela, prendetevi la responsabilità delle vostre follie, basta incolpare Dio. Poverino. E anche sua moglie Nancy si metteva a piangere, chiedeva scusa a JC e le diceva mi dispiace, che uomo orribile che ti fa queste cose. Mentre era stata proprio Nancy a scegliere JC e a decidere di prendere proprio lei. E addirittura c'è un video che Amici fa venire i brividi, in cui ci sono Nancy e Philip in un parco che stanno riprendendo tutti dei bambini che giocano, probabilmente per scegliere la loro prossima vittima. E ad un certo punto Philip le dà a JC un diario su cui può scrivere tutto quello che le passa per la testa e le ha anche dato dei gatti, dei gattini, dicendole che questi gatti erano molto molto costosi, che li aveva pagati circa 200 dollari l'uno così che lei si sentisse riconoscente e che l'aveva fatto per lei perché così si sentiva meno sola. E immagino che da un lato sia stata una cosa buona per JC, perché comunque quando hai degli animali è vero che ti senti meno sola. Peccato che ad un certo punto questi gatti hanno iniziato a scomparire misteriosamente. Ogni tanto Philip entrava nella stanza, gliene portava via uno e non si sa che fine gli facesse fare. E poi il 3 aprile del 1994 a questo punto JC è scomparsa da due anni e quindi ha 13 anni. Sta facendo colazione insieme a Philip e Nancy perché ogni tanto le permettevano di mangiare con loro e ad un certo punto la guardano e le dicono che pensano che sia incinta. A soli 13 anni JC era incinta di quattro mesi del suo primo figlio. E JC non capiva neanche come era successo, non conosceva neanche la connessione tra il sesso e un bambino, non sapeva neanche cosa fosse il sesso. Non aveva ancora ricevuto nessuna educazione a riguardo, era solo una bambina. E ovviamente Philip e Nancy le dicono che non hanno nessuna intenzione di portarla da un dottore a farla visitare e che sicuramente non avrebbe partorito in nessun ospedale. L'avrebbero fatta partorire loro, avrebbero guardato qualche video su come far partorire una persona e l'avrebbero fatto loro in casa. E quindi qualche mese dopo, il 18 agosto del 1994, JC ha 14 anni e inizia ad avere le contrazioni. E la cosa assurda è che in quel momento si trovava chiusa nella sua stanza a chiave e non poteva fare niente per attirare l'attenzione di Philip o di Nancy perché non c'era nessun modo di comunicare con loro. Era Philip che andava nella sua stanza quando gli veniva voglia di andarci. Quindi immaginate quanta paura JC doveva avere in quel momento e ha realizzato che ok, sto per partorire da sola in questo posto. Alla fine Philip e Nancy sono arrivati in tempo e l'hanno aiutata a partorire. E incredibilmente ci sono riusciti senza neanche troppe complicazioni. Pare addirittura che il bambino, che in realtà era una femmina, quindi la bambina, fosse nata col cordone ombelicale intorno al collo e che Philip, come se fosse un dottore, gli ha tolto questo cordone e l'ha tagliato e tutto è andato liscio, per fortuna in realtà. E JC alla fine era contenta da un lato di questa nascita nonostante metà del DNA di questa bambina fosse del suo aguzzino però era contenta di avere qualcuno che fosse parte di lei e senza contare che non era più da sola adesso. E questo in qualche modo le ha dato una nuova speranza, un nuovo motivo per cui vivere. E purtroppo qualche anno dopo è rimasta incinta di nuovo ed è nata una seconda bambina, ovviamente sempre allo stesso modo. Quindi adesso aveva due bambine, tutte e due femmine e Philip le permetteva di educarle nel cortile. Aveva messo su una specie di scuola in uno di questi capanni e quindi JC gli faceva lezione, nonostante il suo livello di istruzione fosse fermo alla quinta elementare. E a quel punto Nancy e Philip l'avevano costretta a cambiare nome. Avevano deciso che si sarebbe chiamata Alissa. E dopo un po' Nancy ha iniziato a essere molto gelosa di JC. Voleva essere lei a ricevere tutte queste attenzioni che suo marito le dava. Ed era anche molto gelosa del fatto che JC fosse madre. Al che Philip ha deciso che da quel momento in poi le figlie di JC avrebbero dovuto pensare che fosse Nancy, la loro madre e che JC fosse la loro sorella. E ovviamente non le era permesso di dirgli la verità. E una cosa che trovo sempre molto interessante in questi casi e che succede anche in questo caso qua è che JC diverse volte ha avuto l'occasione di scappare o di chiedere aiuto ma non l'ha fatto. Ci sono state diverse occasioni in cui ha incontrato persone che avrebbero potuto aiutarla. Come per esempio una volta ha incontrato un ragazzo che era un vicino di casa e ci ha parlato attraverso il cortile e questo ragazzo le ha chiesto chi fosse e dove abitava e lei gli ha semplicemente risposto che si chiamava Alissa con il suo nome falso e che abitava lì. Al che il ragazzo non ha pensato nulla di strano ha pensato che fosse una parente della famiglia e non ha fatto nulla. E nel 2000 Philip decide di aprire una compagnia di stampanti e assume JC. Cioè non l'assume, assume. Però le dà il permesso di lavorare con lui. E così JC diverse volte parla al telefono con dei clienti e anche lì non chiede mai aiuto. Aveva accesso a internet e al telefono ma non ha mai pensato di usarli per chiedere aiuto perché era convinta che il computer e il telefono fossero in qualche modo tracciati e che Philip potesse scoprire, vedere quello che lei faceva. JC si sentiva totalmente sotto il controllo psicologico di Philip ma non soffriva di sindrome di Stoccolma. Tantissime persone nel tempo hanno detto che probabilmente JC soffriva di sindrome di Stoccolma e questo era il motivo per cui non aveva mai cercato aiuto ma JC ci tiene a specificare e si arrabbia anche molto quando la gente l'accusa di questo perché non aveva assolutamente la sindrome di Stoccolma. Lei è sempre stata consapevole al 100% che Philip era una persona orribile che quello che stava facendo era sbagliato ha sempre voluto tornare a casa da sua madre era semplicemente completamente terrorizzata di farlo. Nel 2009 Philip prende JC e la sposta in un altro cortile aveva una specie di secondo piccolo cortile che era ancora più nascosto del primo perché adesso non ha soltanto JC da nascondere ha anche le sue due figlie quindi ha tre ragazze prigioniere non più una e una cosa frustrante in questo caso è l'assenza totale di aiuto da parte della polizia perché Philip a quanto pare era in libertà vigilata questo vuol dire che la polizia ogni tanto andava a casa sua a controllarlo e una volta due agenti della polizia sono effettivamente andati a casa di Philip per controllarlo e hanno fatto una specie di perquisizione della casa ma non sono andati nel cortile e dopo un po' di tempo Nancy e Philip hanno iniziato a lasciare JC un po' più libera finalmente le hanno tolto le manette e le hanno permesso qualche volta di stare in casa con loro e non chiusa nel suo capanno tutto il giorno e una delle volte in cui questi agenti di polizia sono andati a casa di Philip a fare una perquisizione della casa e a controllarlo JC era in casa e ha addirittura avuto una conversazione di circostanza con uno degli agenti e l'agente non ha pensato niente di strano e come vi ho già detto Philip era in libertà vigilata ed era registrato alla polizia come manioco sessuale quindi c'è la polizia è andata in casa sua sapeva che aveva un passato da manioco sessuale ed era in libertà vigilata e va a casa sua a controllarlo e vede che c'è una ragazza molto giovane in casa sua che non si sa chi sia e non ti viene il sospetto e queste cose le odio le odio e non le capisco come fanno a venirti il sospetto quindi comunque la gente non ha pensato nulla di strano e se ne è andato anche i vicini di casa la vedevano molto spesso perché ormai come vi ho detto pian piano Nancy e Philip le permettevano di essere sempre un pochino più libera quindi le permettevano anche di rispondere alla porta parlare con i vicini e nessuno ha mai pensato nulla di strano e lei purtroppo era sempre troppo spaventata per chiedere aiuto nell'aprile del 1992 addirittura un uomo che era ad una stazione di servizio dice di aver visto JC in piedi che fissava la sua faccia nel volantino appeso al muro che c'era lì i volantini che sua madre aveva fatto distribuire in tutto il paese quindi ha chiamato subito la polizia e l'ha segnalato ma la polizia non ha fatto niente non ha neanche controllato che questa cosa fosse vera che quella ragazza potesse essere JC e un'altra volta un'altra donna ha chiamato la polizia per segnalare che nel cortile di Nancy e Philip c'erano degli strani tendoni e c'erano dei bambini che sembrava vivessero lì ok? questa donna ha chiamato la polizia dicendo questo dei bambini forse vivono nel cortile di una persona che ha gli arresti domiciliari perché è un maniaco sessuale e la polizia non ha fatto niente non ha fatto niente e poi finalmente il 24 agosto del 2009 Nancy, Philip insieme a JC e alle sue due figlie vanno al campus della Berkeley l'università perché Philip voleva reclutare dei ragazzi per la sua nuova religione quindi voleva urlare le sue profezie di appunto questa religione strana e cercare persone che si aggregassero al suo culto e lì vicino c'erano due agenti donne della polizia che hanno visto questa famiglia e questo quest'uomo molto strano che urlava cose ancora più strane e hanno avuto una sensazione che ci fosse qualcosa che non andava e questo diciamo senza nessun motivo perché JC si atteggiava in modo totalmente normale ormai nella sua testa quella era la sua vita quindi non era in cerca di aiuto non guardava nessuno era tutto totalmente normale tra virgolette ma questi due agenti hanno iniziato ad avere questo sesto senso che scusate ma è puro istinto femminile e quindi si sono avvicinate a questa famiglia e hanno fatto finta di essere interessate a questa religione di Philip e quando gli hanno chiesto il nome hanno fatto un controllo su di lui e hanno visto che era un maniaco sessuale al che hanno detto ok qua c'è qualcosa che non va li hanno presi tutti quanti e li hanno portati alla centrale di polizia e questa è una cosa che ho detto anche in altri video e la ripeto perché è veramente importante quando vediamo qualcosa di strano di parlare di dirlo a qualcuno dirlo dirlo a qualcuno perché magari ti stai sbagliando magari non c'è niente di strano ma va bene al massimo ti sei sbagliato ok e va bene sbagliare ma in alcune situazioni tipo questa e tipo tante altre puoi salvare la vita di una persona quindi parlate sempre quindi quando sono arrivati alla centrale di polizia queste poliziotte hanno preso JC e le hanno chiesto come si chiamava e JC all'inizio non collaborava era troppo spaventata e continuava a dire che il suo nome era Alyssa e la polizia ha fatto un controllo su questo nome ma non trovavano niente questa persona non esisteva quindi si sono preoccupati ancora di più perché hanno capito che magari questa ragazza era stata rapita al che le hanno messo un po' di pressione e alla fine JC ha detto ok vi dico il mio vero nome ma sono troppo spaventata per dirlo ad alta voce posso avere un pezzo di carta le danno un pezzo di carta e lei scrive JC Lee Dugard e la polizia perde la testa perché a quel punto JC era scomparsa da 18 anni 18 anni ok 18 anni le sue figlie avevano 11 e 15 anni e appena hanno capito chi fosse le hanno chiesto se voleva che chiamassero sua mamma e ovviamente lei ha detto sì posso posso vedere mia mamma e le hanno chiesto e le hanno chiesto e le hanno chiesto è come la mia mamma è una domanda che hanno chiesto capito E ovviamente hanno subito arrestato Nancy e Philip Ora sono più di dieci anni Che JC è libera Ed è una donna veramente straordinaria Di una forza davvero inaudita Va in terapia Sta crescendo le sue figlie Ha scritto due libri Di cui uno è quello che sto leggendo io Che si chiama A Stolen Life Una vita rubata E l'altro libro si chiama Freedom Quindi libertà E lo stato della California La risarcita di 20 milioni di dollari Per tutti gli agenti di polizia Che hanno fallito nel capire Che c'erano tre donne prigioniere A casa di Philip Per quanto riguarda Philip E Nancy staranno in prigione Per il resto della loro vita E al processo JC Non si è neanche voluta presentare Ha lasciato una dichiarazione Attraverso sua madre Dicendo a Philip Ho scelto di non essere qui oggi Perché mi rifiuto di sprecare Un altro secondo della mia vita In tua presenza Ho odiato ogni secondo Di ogni giorno Di quei 18 anni Per colpa tua Per colpa della perversione Che mi hai obbligata a subire Nancy Garrido È stata sentenziata a 36 anni Dopo essersi dichiarata colpevole E JC sta benissimo Sta facendo grandi cose Ha fondato la sua fondazione Che mira a dare supporto Alle famiglie O agli individui Che hanno subito Dei gravi traumi O delle crisi Nella loro vita Che devono superare Vive in una località Che non è stata resa nota E dice di voler pensare Solo a se stessa E alle sue due figlie E alla sua famiglia E questa è la storia di JC Amo le storie di sopravvivenza Le storie in cui Ci sono queste donne O comunque questi individui Così forti E sono davvero Un'ispirazione per me Perché se JC È riuscita a superare questo Io mi sento come se Potessi davvero superare Qualsiasi cosa Quando ho un problema E penso queste storie Mi da una forza Davvero incredibile Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Mettetemi un like Iscrivetevi al canale E seguitemi su Instagram Ci vediamo venerdì Con il secondo episodio Della mia rubrica Sui Non lo so fare Avete capito? Ciao Ciao